Si occupa di marcare la rimessa, ha dunque un giocatore lungo in meno per il San Antonio Spurs, che però possono cambiare su tutti i blocchi. Si muove e monta Ellis, Calderon per Carter, che perde troppo tempo, prende il tiro! Da tre punti sulla sirena! Finkredi Ball per vincere la partita! Incredibile! Incredibile! A 37 suonati, Mark Cuban se lo strizza! Finale pazzesco! Gli arbitri probabilmente andranno a rivedere, ma credo sia da considerare valido. L'impressione è assolutamente che sia valido, un canestro pazzesco, con Ginobili che ci saltava davanti, quasi al limite del fallo, buttandosi indietro. Segna questo canestro pazzesco, che potrebbe avere un'importanza unica per questa serie, perché scappare con una vittoria per Dallas in questo modo sarebbe incredibile. E quel famoso buzzer bidder della stagione di Dallas Mavericks non è più quello di Monta Ellis contro Portland, ma è questo, è buono questo canestro, è super buono! Ginobili ha provato a contenerlo, onestamente se il giocatore segna un tiro così, Ginobili salta due volte, bravo lui! Cosa vuoi fare? Bravo lui! Canestro pazzesco, altro che bravo lui! Un capolavoro, un miracolo praticamente! I piedi dall'ultima inquadratura sembrano dietro la linea dei tre punti! Finale incredibile di una bellissima partita! E Kiuban che già di solito tende a festeggiare le vittorie, ci sta che questa la festeggi in maniera ancora più evidente! Bella partita, bella serie! Ripeto, finale incredibile! Incredibile, incredibile tiro di Vince Carter! Ovviamente tenuto in campo da Carlyle per quel tipo di situazione, sentiamo! La discussione del time-out, avevamo diverse opzioni! Se tutti se dedicheranno attenzione a Monta Ellis e staranno vicini a Novitski, cerca di farti trovare pronto! La partita era molto importante per noi, e siamo riusciti a portare a casa il risultato! Samwell Dellenberg è stato importantissimo per noi, abbiamo avuto apporto da tutti, Monta Ellis è stato spettacolare! Abbiamo coinvolto tutti, è una grande vittoria per noi! E questa Davide è una mazzata forse psicologica per gli Spurs, abbiamo visto ad esempio Parker andare dritto negli spogliatoi senza neanche aspettare, Parker non era in campo nell'ultima azione gestita da Ginobili.